Già lontanati dal sindaco Masci, per i due dipendenti del settore lavori pubblici del comune di Pescara, Gianluca Centorama e Jairo Ricordi, indagati nell'ambito dell'operazione La Tana delle Tigri su un presunto giro di droga e mazzette tra dirigenti e imprenditori, è giunto anche il provvedimento di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio disposto dal GIP Fabrizio Cingolani su richiesta dei PM Anna Maria Benigni e Luca Sciarretta. Nei confronti dei due pesa l'ipotesi di reato di peculato per aver utilizzato per uso personale le vetture del comune ed alcune intercettazioni telefoniche e ambientali, parrebbe che i due avessero fatto anche uso di cocaina all'interno delle macchine. Il giudice parla di concreto e attuale pericolo che gli indagati commettano ulteriori delitti della stessa specie di quelli per cui si procede. Intanto fa discutere la notizia pubblicata su diversi organi di stampa di una precedente condanna del 2018 per il dirigente Fabrizio Trisi da parte dei giudici della Corte dei Conti per un incarico a un architetto esterno da 48 mila euro affidato nel 2012.